Un sequestro per un valore di 400.000 euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata tra le province di Napoli e Salerno, su richiesta della Procura di Torre Annunziata. Si tratta di una società di import-export operante nel settore dell'imballaggio e nel confezionamento di generi alimentari con sede nel comune di Sant'Antonio Abbate. La misura cautelare patrimoniale è stata emessa dopo diversi accertamenti di natura economico-finanziaria sviluppati dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabbia sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Torre Annunziata avviati a seguito di un'attività fiscale che ha permesso di ricostruire a carico della società l'omesso versamento di ritenute certificate nei confronti dei dipendenti. L'illecito, oltre all'indebito risparmio d'imposta, ha consentito anche all'impresa di collocarsi sul mercato in una posizione di rilievo nello specifico settore commerciale distorcendo così le regole della libera concorrenza. Il provvedimento ha portato a sequestro di quasi 213.000 euro di partecipazione azionaria e societaria e di 96.000 euro di conti correnti nei confronti della società e del rappresentante legale.